In occasione della conferenza stampa dedicata al weekend del donatore di Avis, che si terrà a Pesaro dal 13 al 15 settembre, per una tre giorni di eventi, musica e spettacolo con ospiti e volti noti come quello di Giovanni Cacioppo, il presidente regionale Ragnetti coglie l'occasione per sollevare un problema del sistema sanitario regionale, che non riesce a rispondere al grande numero di donatori delle marche. La sanità è troppo lenta, noi viaggiamo a un'altra velocità, noi lavoriamo sempre nella promozione, i donatori sono sempre disponibili, ci sono stati eventi come il Covid, i donatori hanno donato anche quando la gente non andava dentro le strutture sanitarie a curarsi, per intenderci. I donatori sono bravi, i nostri dirigenti lavorano instancabilmente, il problema è che tutte le criticità che emergono sono affrontate con troppa lentezza. Sostituire i medici o gli infermieri o i tecnici che mancano passano tempi insostenibili, per cui spesso ci ritroviamo in tante parti del territorio, succede un po' ovunque, da Pesaro ad Ancona, a Fermo è una tragedia, succede a D'Ascoli dove sul territorio, ovviamente sui centri trasfusionali l'attività continua sempre immancabilmente perché quelli non si fermano, però tutta l'attività sul territorio, la raccolta di sangue e plasma sul territorio subisce degli stop incredibili. Fortunatamente questa grande disponibilità dei donatori e dei nostri dirigenti porta a superire sempre le mancanze di qualche parte del territorio, tant'è vero che nel 2023, ma anche fino ad oggi, nel mese di luglio, siamo riusciti pure a mettere a disposizione di altre regioni una quantità discreta di sacche di sangue perché la nostra solidarietà, lo sottolineiamo sempre, non si ferma, non ha dei confini né comunali né territoriali né tantomeno regionale. Quindi come sistema, diciamo, Avis a livello nazionale siamo una delle regioni più in evidenza, nonostante siamo una regione piccola, abbiamo un rapporto donazioni-popolazione molto alto, oscilliamo sempre tra il primo e il secondo posto sia per quanto riguarda la raccolta del sangue che la raccolta del plasma.